Benvenuti, 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 siamo tornati qui con un nuovo video di 94% che manca da parecchio tempo, tanto, tanto tempo, quant'è che lo facciamo? E perché lo facciamo? Perché ci avete chiesto, quindi niente, ci avete chiesto, tanto che non continuiamo, quindi abbiamo detto perché no, perché non farlo e lo facciamo. Quindi eccoci qui con, non mi ricordo più neanche dove eravamo rimasti, alla 12, dovevamo fare la 12 e ci diceva cioccolato. Spero che tutti sappiate come funziona il 94%, se non lo sapete andate a vedere i video vecchi. Cioccolato al latte. Che vuol dire cioccolato? Vabbè fondente, latte, nocciole, cacao, nocciola, che cazzo c'è? Tavoletta, dolce, nutella, crema di nocciole. Crema, cioccolato che c'è sta, fondente, puro, una bamba. Che cazzo c'è sta, cioccolato, nocciole, bianco, cazzo sì, qualcosa ne ha pensato nessuno, rosso, spray, gelato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, non era gelato al cioccolato? Oh porca puttana oh, cioccolato amaro, ma è fondente cioccolato amaro? Ma vaffanculo va, ma vaffanculo! Allora ce n'è molto in Francia, baguette, croissant, che c'è sta tanto in Francia? E che, formaggio, bercoio, che baggio c'è? A champagne, champagne, vino no, spumante, spumante, dai che non ho trovato un'altra. Sfumante, spumante, no, non è spumante, compro una vocale, spumanta, spumanto. La Dura Eiffel, ho già messo la Dura Eiffel. Qua è Monumenti, se è andato a Dura Eiffel. Monumenti, 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 Monumenti. Poi, che altro ci sta? Quindi, Monumenti. Ma oddio, cazzo, quelli, che cazzo si chiamano che mangiano le lumache loro? Si chiamano? Francesi, che cazzo non so. No, si chiamano Escargot. Eh, Escargot. Però lumache. Lumache, proprio così. Queste sono lumache di Ostia. Sono lumache di Francia. Sono lumache di Francia. Poi, dici, se stanno i Monumenti, non ci possono, non sta i turisti. Dei Cristi. E, che altro, arte, c'è altre cose. Arte. Cazzo. Arte. 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 Arte, artride. Arte, apposta. Arte, apposta. Questa è stata molto dura, regà. Cioè, abbiamo messo, voi, avete visto, lo tagliato, ma per realtà abbiamo messo una cifra. Ok. Ghiaccioli. Freddo. Gelato. Freddo. Freddo. Inverno. Neve. Inverno. Ghiaccio. Ghiacciolo. Estate, semmai. Inverno. Legno. Panna. Quella, alla base, è panna, no? Eh. Riflesso. Spanche, riflesso. Acqua. Frutta. Frutta. Sì, probabilmente è questo. Frutta. Fai? Ta. Frutta. Ta, ta, ta. Quindi dal livello 12, incredibilante. Fantasticamente. Se mi fai andare avanti, grazie. 13. Animali senza artigli. Cane. Raggiustamente. Serpente. Serpente. Dinosauro. Che non ce l'hai, artigli. Non ce l'aveva. Non ce l'ha. Pesce. Popo. Che cazzo dici? Cato. Ma ce la giù, dice. Coniglio. Sta l'umara che ci sta sognando oggi, eh. Poi che c'è? Cuccinella. Vabbè, ma gli animali senza artigli potrebbero essere miliardi. No, è molto generico. Elefante. Dove svelare i artigli elefanti, scusa? Vabbè, ce l'ha l'unghia. Giraffa. Delfino. Oh, invece i becchi con queste cose, eh. Ho visto, sì. E... Balena. Dici, se c'è sta delfine, c'è sta balena. E invece no. E invece si attacca a marcatto. Tu sei spiaggiata. Allora, passiamo a quelli di... Allora, l'acqua abbiamo finito, no? Che cazzo dici? Che volano. C'è qualcosa senza artigli? No, ce l'hanno tutti. Piccione. Ce l'hanno tutto. Non posso, non... Che corrono. Avevamo detto l'elefante. Non corre. Il cavallo. Il cavallo, è vero. C'ha gli zoccoli, non c'ha gli artigli. Infatti, eccolo qui, il grandissimo cavallo. Allora, un altro che c'ha i zoccoli. Bucca! Mucca! Mucca! C'è la bucca! Mucca! Finito, anche questo. Oggi stanno abbastanza veloci, Simo. Però... Abbiamo messo un quarto d'ora prima per fare la francia. Però... Coppia. Porti coppia. Doppia. Doppia e coppia. Matrimonio. Sesso. Anelli. Sesso. Uomo-donna. Amore. Anore. Coppia. Litigi. Gemelli. Figlio. Parenti. Parenti di coppia. No, vabbè, che cazzo... Scambio. Coppia? D'assi. Che cazzo ne so. Doppia coppia non è. Tripla coppia non esiste. No. Con le carte. Ok, carte nove. Poi... Nove carte, quindi... Non so, non è una coppia. Esatto. Fidanzati. Che cazzo ne so. Tanto ormai penso che sia là. È un'altra cosa che fa due. Una coppia è due, no? Due. Non so. E... Due, quattro... Fa sei. Quindi direi sei. Giusto. Non era sei. Una coppia de... Dei coglioni. Giusto, i coglioni vanno sempre in coppia. Scroti. Se provi amici forse è meglio. Amici. Perché i coglioni vanno sempre in coppia forse non lo capisce. Eh, mo' manca il 2%. Che è? Ovviamente non è 2, ma è l'8. Tu pensa a tutti gli oggetti che possono andare in coppia. Orecchini. Vabbè, una coppia di pantaloni. Un paio. Un paio. Ho due. Scarpe, allora. Un paio di scarpe. Scarpe. Olè! Olè! Che che è? Serto, c'è stava le robe a guanti. Sì, in effetti c'è. C'è proprio tanto il cazzino. E questa foto cosa ti ispira? Sesso. Gambe. Peli. Pantofola. Peli. Rosa. Relax. Peli. Che faccio? Relax. È vero! Hai detto, peli in tre ore, relax, mette peli. Divano. Casting couch. Porno. Pelle. Nero. Depilata. Depilata. Donna. Donna, vabbè. Giusto così. Fatto male. Pum pat. Tentini. Sfondo. Sfondo pulpatio. Dietro che è? Miscio. Depilata. Depilata. 2%. Vai. Rittera jolly. C. Casa. Casa, sì. Ma vaffanculo. Mamma mia. Maronna mia. Ma chi... Vabbè, raga. Abbiamo fatto questi due livelli. Speriamo che vi siano piaciuti. La prossimo... Al prossimo livello siamo al 14, ovviamente. Che mio compleanno. Esatto. Se vi è piaciuto lasciamo 5.000 like per vedere un prossimo video di 94%. Poisson. 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 Cosa c'è in Francia? Un croissant. No. Turbo frigna. Vabbè. E rega, niente. Passate sui social e tutto quanto. Esatto. Sul lista. Passa i magraffi. Ma hai sfidato? Vabbè, basta, dai. Lascia, lascia. Bella, bella, bella. Bella, bella. Bella. Bella.